Amici di Serie BTV appassionati di calcio, buon pomeriggio da Claudio Di Nicolantonio, buon pomeriggio dal Dino Manuzzi di Cesena dove tra poco andrà in scena per la quattordicesima giornata della Serie BWin, la sfida appunto tra il Bruno di casa del Cesena e del Brescia sfida di cartello, sfida dal grande fascino per dirla con le parole di Alessandro Calori Eccoli qua, calcio d'inizio, converge verso il centro poi cerca questo suggerimento per De Maio Attenzione al traversone con la palla, non ci arriva nessuno, passa attraverso tutta l'area di rigore Tiene però ancora vivo il pallone in Cesena, attenzione a Diopovic che pensa alla conclusione, va con il destro Nessun problema per Arcari In mezzo questo pallone pericolosissimo e arriva il gol del vantaggio del Cesena proprio con De Frelle che arrivava da dietro sul secondo palo Che appoggia molto bene per Redda Prelà, subito all'attraversione sul secondo palo, palla che rimane lì, Salamon E la palla che colpisce la traversa, attenzione perché c'è ancora Scaglia, il rimpallo e poi in qualche modo riesce ad allontanare la difesa del Cesena Scaglia va sul primo palo Corvia, palla che passa proprio con il colpo di testa di Corvia, in qualche modo salva Belaghi Attenzione perché non è finita Budel e trova il gol del pareggio Budel con Mancino Malgrado l'intervento di Komoto all'ultimo tuffo ma non è riuscito a stoppare il tiro di Budel Battere questo calcio di rigore, parte Corvia, palla in rete 2-1 Brescia Che ribalta il risultato grazie a Corvia Eccolo qua, fischio d'inizio, si parte per il secondo tempo Traversone che parte adesso, attenzione perché pallone rimane lì Aveva sorpreso, in qualche modo Arcari Poi un altro non nuovo ad interventi particolari sulla linea Ottimo il pallone dentro, filtrante per D'Aprelat Che va adesso a traversone sul secondo palo, Vitor Sopa E la palla non entra perché in qualche modo riesce a salvare Ottimo lo spunto di D'Alessandro che poi trova, è libero la paduna che va col sinistro Arcari blocca a terra Lascia passare molto bene D'Alessandro che trova la discesa di Caldirola Che va subito a traversone, esce Arcari con i pugni e la mette fuori La scodella per Bui che la fa proseguire di destra per Corvia Attenzione a Corvia, si gira con il destro E la palla che lambisce il palo, forse lo tocca addirittura Palla che finisce fuori di pochissimo, di un niente Pronto Corvia parte con il destro, la palla che finisce su una traversa Grande la conclusione potente Praticamente battuto, eccolo qua Destro potente Arriva Zambelli, Saba fa tutto da solo Saba al sinistro e trova un gol Straordinario Saba E' il gol che fissa il risultato al momento sulle 3-1 per il Brescia Con calma per Budel, arriva adesso il fischio finale del direttore di gara Si chiude a 49-30 3-1 per il Brescia che in rimonta batte il Cesena Una gara che soprattutto nel secondo tempo ha regalato tantissime emozioni Grazie! Grazie!